Eh, dottore, mi ha appena detto che l'ha fatta addosso. Cosa hai fatto? Mi scappava. Che cosa? La pipì. Secondo te a cosa serve lo sportellino? Scusa, te l'abbiamo fatto apposta? Pota? Mi scappava. Non trovavo i pantaloni. Ho capito, figa, ma avrai sentito che c'hai sull'armatura di ferro. Si arrugginisce se gliela fai dentro, ma c'era il cervello te o no? Mi scappa ancora. Questa è solida, però. Sicuro che era pipì? Eh? Era la pupù. La pupù. Ah, vabbè. L'ho fatta ancora. Te bello ha che non l'abbia mica presa il decathlon con l'armatura qua. Ecco. E poi adesso basta. Ma senti che odore di merda. Madonna che odore, apri un attimo la finestra. Tra l'altro oggi ci sono anche i bagni rotti, porca miseria. Adesso vai ad agio, aspetta un attimo. Orca troia, senti cavolo. Non muoverti, non fare il cristianino. Non muoverti, non muoverti, non muoverti. Non puoi fare così, capito? Dai, chiamate qualcuno, per favore. Dovete chiamare. Sicurezza, dai, cavolo. Lasciatelo andare fuori. Dovete chiamare. L'ho fatta, dai, cavolo. E' da un'altra, cavolo. Tocaccio è la un'altra! Di caccio è la un'altra, cavolo. La un'altra, cavolo. Aia. Aia! No.